Sabato 23 maggio, San Desiderio Vescovo. È il 144esimo giorno dall'inizio dell'anno, ne mancano 222 al termine. Il sole sorge le 5.32 e tramonta le 20.44. La luna sorge le 6.09 e tramonta le 21.29. Un incendio danneggia gravemente il Palazzo degli Anziani, sede della magistratura comunale di Padova, costruito nel 1285. Deturpato nel corso dei secoli da sovrastrutture che ne alteravano le forme architettoniche, il palazzo fu radicalmente restaurato e restituito all'antico splendore nel secolo scorso. Le previsioni per domani. Fino alle prime ore residuo a nuvolosità irregolare, in seguito sereno o poco nuvoloso. Nel pomeriggio sviluppo di modesti cumuli sui rilievi, specie prealpini. Precipitazioni fino alle prime ore e probabili residui fenomeni sulle pianure centro-orientale e meridionale. In seguito precipitazioni assenti in pianura, mentre sulle zone prealpine e pedemontane non si escludono locali rovesci o temporali nel pomeriggio. Temperature in calo, anche marcato nei valori massimi.